Ciao, sono Daniela Mucio, ho 19 anni e sono una studentessa di Action Academy. Sono Davide Berticelli, ho 28 anni e sono un allievo di Action Academy. Mi trovo bene in Action Academy perché i professori danno importanza ad ognuno di noi senza lasciare le stioni indietro. Quello che mi è piaciuto particolarmente di Action Academy è il vasto range di materie che mi fanno seguire. Quello che sto cercando di dirti Rio è che la nostra storia è stata assolutamente casuale. Vedi, poteva succedere qualsiasi cosa in quel momento. E adesso io sono qui a farmi la tua stessa domanda. Ma come abbiamo fatto a stare insieme per così tanto tempo? Un po' per il tempo, per la monotonia o semplicemente per le persone come me? Noi sappiamo tirare fuori il dolore in un solo modo, restituandolo. Credo nelle rovesciate di Bonimba e nei rift di Kate Richards. Credo al doppio suono di campanello del padrone di casa che vuole l'affitto ogni primo del mese. Credo che c'è un buco grosso dentro. Ma anche che il calcio, la musica, qualche amichetta, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici. Ma ogni tanto questo buco non lo riempio. E credo che per credere a volte ci voglia tanta energia. Tanta energia. Un saluto a tutti e vi ricordo che sono aperte le audizioni per il nuovo anno accademico di Action Academy. Un saluto a tutti i nostri amici.